Un cordiale saluto a tutti voi. Con questo documentario desideriamo presentarvi la bellissima sinagoga Hurva che si trova nella città vecchia di Gerusalemme, nel quartiere ebraico. Nelle sinagoge non compaiono mai immagini, tutt'al più delle discrete decorazioni, questo in ragione del divieto biblico di fare immagini. Questa è la città storica di Gerusalemme, quella dentro le Mura per intenderci. La zona blu è il quartiere ebraico dove visitiamo la sinagoga Hurva. Questa è la sinagoga Hurva. Ma cos'è una sinagoga? La sinagoga è semplicemente un luogo dove le parole degli uomini si rivolgono al cielo, ma anche un posto dove ci si reca per studiare i testi sacri. In sostanza questo luogo è il tramite fra la terra e il cielo. Qui siamo nel quartiere ebraico. Questa alle mie spalle è la Hurva, la grande sinagoga. È una sinagoga enorme, è la più grande di tutto Israele. Andiamo a vedere se ce la fanno vedere dentro, ma sarà un po' difficile. Andiamo a vedere. Ma fermiamoci un attimo. Come avrete notato le pareti sono completamente spoglie. Vediamo di fare un ragionamento. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi ma io sono credente o no? Se ci consideriamo credenti dobbiamo accettare che Abramo fu il primo a conversare con Dio. Un giorno sentì la voce di Dio che gli ordinava di lasciare la sua terra di Hur nell'area babilonese dell'odierno Iraq e di andare nella terra che gli avrebbe indicato. Durante il lungo tragitto Abramo ha continuato a conversare con Dio. Insieme, ebrei, musulmani e cristiani riconoscono Abramo come padre della fede nell'unico Dio, capostipite del monoteismo, chiamato anche abramismo. Ma per essere credenti bisogna accettare e credere al secondo pilastro della fede e più precisamente Dio che si rivolge a Mosè più volte e infine gli detta la legge che i cristiani chiamano comandamenti. I credenti per essere tali devono accettare e seguire la legge dettata da Dio a Mosè, così com'è e non come fa comodo a loro. Il testo più antico e più veritiero è quello che la Bibbia riporta nel capitolo Esodo 20. Commentiamo insieme alcuni passaggi, tanto per cominciare la legge ricevuta da Mosè non era numerata. Saltiamo il primo paragrafo e il secondo dice non avrai altro Dio all'infuori di me. E se leggiamo il Vangelo anche Gesù ci ha insegnato a pregare solo verso Dio, ma il cristianesimo prega una miriade di defunti chiamandoli santi. I protestanti riconoscono unicamente la devozione a Dio, uno e trino. Qualsiasi forma di devozione, sia essa alla Madonna o ai santi, è una forma di idolatria. Andiamo avanti. Non farà idoli o immagine alcune, eccetera, eccetera. Difatti le sinagoghe e le moschee non mostrano nessuna immagine, mentre le chiese cattoliche e ortodosse sono tappezzate di immagini che i fedeli sono devoti, pregano e li invocano. Questa non è idolatria. Ma ritorniamo alla nostra presentazione della sinagoga curva. Nella parte alta della sinagoga c'è una balconata, dalla quale si gode di una meravigliosa vista della città di Gerusalemme. Vi si accede sia con una scala interna, sia con questa scala esterna che vedete. Riassumiamo la storia di questa sinagoga, la curva. Il 14 ottobre 1700, un gruppo di circa 500 obrei aschenaziti, guidati da Giuda e Aschid, giunse a Gerusalemme dall'Europa orientale. Erano mistici e intendevano anticipare l'era messianica, stabilendosi a Gerusalemme. Decisero di costruire una sinagoga, ma non avendo fonti sufficienti, si addebitarono con gli arabi. Alla fine del 1720, gli arabi, non avendo ricevuto la restituzione dei prestiti, gli incendiarono la sinagoga. Dopo infinite vicissitudini, la sinagoga venne ricostruita, ma con la guerra del 1948, la sinagoga a Hurva venne fatta saltare in aria dalla legione araba. Nel 1967, dopo la guerra dei sei giorni e la riconquista della città da parte degli israeliani, iniziarono la ricostruzione dell'attuale sinagoga, inaugurata il 15 marzo 2010. Ma i palestinesi non hanno mai accettato questa costruzione, in quanto in un ex luogo palestinese. Qualunque stanza può diventare una sinagoga, nel momento in cui dieci ebrei adulti, maschi, vi si mettono a pregare, nel rispetto della liturgia, e vi fa il suo ingresso il rotolo, con sopra scritta a mano, la Torah, cioè la Bibbia. Nella sinagoga è sancita una totale separazione fra uomini e donne. I rabbini sostenevano, infatti, che la presenza femminile disturbava la concentrazione degli uomini intenti alla preghiera. Per questo motivo, alle donne è riservato il cosiddetto matroneo, che consiste o in una balconata al piano superiore, o in una zona arretrata del locale. In questo modo, le donne assistono alla funzione religiosa, ma gli uomini non le vedono. Va detto che le donne non prendono parte attiva alla preghiera riservata invece ai maschi. Ogni ebreo credente prega Dio tre volte al giorno, al mattino, al pomeriggio e alla sera. Durante la preghiera gli ebrei indossano il copricapo, chiamato kippah, e lo scialle della preghiera, chiamato talit. Nella sinagoga ci sono degli elementi fissi. L'armadio sacro, chiamato arkash, posto sulla parete rivolta verso Gesùlemme. All'interno c'è il Sefer, Torah. Grande sinagoga. Questa è la menorah, è il simbolo di Israele e il simbolo dei ebrei. Quando Dio ha creato il mondo, ha lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quello di mezzo è il riposo, è il sabato per gli ebrei, è il giorno di riposo. Questo rappresenta praticamente la creazione del mondo. È il simbolo che trovate su tutti i libri e tutte le cose degli ebrei. La menorah è un caldelabro a sette braccia e, in origine, molto probabilmente, l'aveva fatta forgiare in oro massiccio Mosè. Della menorah si era perso ogni traccia e perfino gli ebrei non sapevano più come fosse fatta. Poi ne ritrovarono la forma sull'arco di Tito a Roma. Come ben sapete, Tito nel 70 rase il suolo a Gerusalemme e i romani trasportarono le opere trafugate dal Tempio di Gerusalemme, le trombe d'argento, la mensa dell'arca, la dell'aranza, il candelabro a sette braccia, in oro massiccio. Queste colonne sono una piccola porzione del cardo romano. Era un ampio viale commerciale delimitato da colonne. Il cardo di Gerusalemme fu costruito nel 130 d.C. per volere dell'imperatore Adriano, il quale stabilì che la strada dovesse attraversare la parte nord della città, dalla porta di Damasco fino alla porta di Sion. Vediamo ora come si vestono gli ebrei. L'abbigliamento formale comune comprende lunghe giacche di seta, chiamati bichesse, indossati il giorno dello Shabbat e nelle festività ebraiche, nonché per matrimoni ed eventi di importanza comunitaria. La kippah è lo zucchetto rituale che i maschi ebrei portano in testa per rispettare la prescrizione di non presentarsi a capo scoperto dinanzi a Dio. È obbligatoria in sinagoga. Lo streimel, indossato principalmente dagli ebrei ortodossi, è simbolo di eleganza. Lo streimel si indossa insieme agli altri articoli di vestiario propri dalla festività e ai matrimoni. Non viene mai messo coi vestiti della settimana lavorativa. Non ci sono regole ufficiali su quando si debba indossare lo streimel. Il 10% degli ebrei ortodossi indossano un cappello borsellino. Sono cappelli di extra lusso, costosissimi, simbolo di ricchezza ed eleganza. Il talled o tallit, chiamato anche scialle da preghiera, è utilizzato dagli uomini per le preghiere matutine, per varie cerimonie religiosi e una sola volta all'anno durante la preghiera serale. Concludiamo qui il nostro breve documentario sulla sinagoga Hurva. Grazie per la vostra cortese e apprezzata visione. Grazie per la vostra cortese e apprezzata visione.